Salve, sono Alessandro Benvenuti e sto leggendo La briscola in 5 di Marco Malvaldi per la Emons Audio Libri. Sono Marco Baliani e sto leggendo Il richiamo della foresta di Jack London per Emons Audio Libri. Ciao, io sono Michele, riondino, e leggo Io non ho paura di Niccolò Ammaniti. Lei è Claudia Bandolfi? Sì, e lui è Rolando Ravello e insieme abbiamo letto. Le ho mai raccontato del vento del nord? Di? La Power. Daniel, Daniel. Sono Alba e sto leggendo La signorina Elsie di Arthur. La rifacciamo. La rifacciamo. La rifacciamo. La rifacciamo. La rifacciamo. Grazie a tutti.